4. L'indomani Catherine si affrettò più impaziente del solito alla pump room con l'intima convinzione di incontrare Mr. Tilney in mattinata, pronta a salutarlo col suo più bel sorriso. Ma Mr. Tilney non si fece vedere e il sorriso non fu necessario. Tutti gli abitanti di Bath, tranne lui, passarono in mostra a varie riprese nella sala allora elegante. Su e giù per le scale era un continuo andirivieni di gente che non interessava nessuno e che nessuno desiderava vedere. E lui solo mancava. «Che luogo delizioso, Bath!» disse Mrs. Allen a Catherine mentre si sedevano sotto il grande orologio, stanche di essersi pavoneggiate nella sala. «E come sarebbe bello avere dei conoscenti!» Questo voto era stato formulato in vano tante volte, che non c'era proprio da sperare nella sua realizzazione. Ma ci è stato insegnato a non disperare mai di ciò che si vuole raggiungere, perché con assidua diligenza si perviene allo scopo. E l'assidua diligenza di Mrs. Allen nel formulare ogni giorno gli stessi voti doveva finalmente avere la giusta ricompensa. Si era infatti seduta da appena dieci minuti quando una signora, presso a poco della sua età, che si trovava accanto a lei e l'aveva guardata con molta attenzione, le rivolse la parola cordialmente. «Credo di non ingannarmi, signora. È da molto tempo che non ho avuto il piacere di vedervi. Non siete Mrs. Allen?» Avutane risposta affermativa. La signora pronunciò il suo nome, Torp, e all'istante Mrs. Allen riconobbe i lineamenti di una sua compagna di scuola, un tempo sua intima amica. Si erano riviste solo una volta dopo essersi sposate, ed era trascorso molto tempo da allora. La gioia dell'incontro fu esuberante da ambo le parti, come era naturale per due signore che nello spazio di quindici anni non avevano mai sentito la necessità di cercarsi. Si scambiarono dei complimenti. Poi, dopo aver parlato dei lunghi anni trascorsi senza vedersi, della sorpresa di ritrovarsi a Bath e del piacere di rivedersi da vecchie amiche, cominciarono a farsi reciprocamente una serie di domande sulle famiglie, le sorelle e le cugine. Domande alle quali rispondevano tutti e due insieme, molto più preoccupate di dare che di ricevere dettagli, e prestando poco ascolto a ciò che l'altra diceva. Nella conversazione, Mrs. Torp aveva però un gran vantaggio su Mrs. Allen, quello di avere una numerosa prole. Cominciò a dilungarsi sui talenti dei figli maschi e sulla bellezza delle figlie, a parlare della loro carriera e dei loro progetti, specificando che John era Oxford, Edward alla Merchant Taylors, che William navigava, e che erano amati e apprezzati nelle loro rispettive funzioni più di quanto non fossero altri ragazzi. Mentre Mrs. Allen, che non aveva notizie o successi simili da imporre all'orecchio malevolo e incredulo della sua amica, era costretta a starsene tranquilla, fingendo di interessarsi a quelle fusioni materne, consolandosi tuttavia alla scoperta, tosto fatta dai suoi occhi perspicaci, che il merletto sulla pelliccia di Mrs. Torp era molto meno bello del suo. «Ecco le mie care ragazze!» esclamò a Mrs. Torp, indicando tre graziose fanciulle che si dirigevano verso di lei tenendosi a braccetto. «Non mi parlo ora di presentarvele, cara Mrs. Allen! Saranno così liete di vedervi! La più alta è Isabel, la maggiore! Non vi pare una gran bella ragazza? Anche le altre sono molto ammirate, ma la maggiore mi sembra la più bella!» Le signorine Torp furono presentate. Poi venne anche il turno di Miss Morland, che nel frattempo era stata dimenticata. Il cognome di Catherine sembrò colpirle, e dopo aver scambiato qualche parola con grande cortesia, la maggiore osservò a voce alta. «Come rassomiglia al fratello, Miss Morland!» «È proprio il suo ritratto!» esclamò alla madre. «L'avremmo riconosciuta dovunque come sua sorella!» replicarono le ragazze in coro. Lo stupore di Catherine fu di breve durata. Non appena Miss Torp e le figlie cominciarono a raccontare la storia dei loro rapporti con Mr. James Morland, Catherine si ricordò che il fratello maggiore aveva stretto amicizia con un compagno di collegio a nome Torp e aveva trascorso con la famiglia dell'amico, nei pressi di Londra, l'ultima settimana delle vacanze di Natale. Tutto si chiariva. Le ragazze Torp dissero molte cose carine, espressero il desiderio di fare amicizia con Catherine e la gioia di considerarsi già amiche grazie ai rapporti che legavano i loro fratelli, eccetera. Catherine ascoltò con piacere e rispose con la sua migliore grazia. La maggiore delle Torp, in segno di simpatia, le offrì il braccio e l'accompagnò in un giro per la sala. Catherine era entusiasta dell'estendersi delle sue conoscenze a Bath. Parlando con Isabel quasi dimenticò Mr. Tilney. L'amicizia è certamente un balsamo alle pene dell'amore deluso. La loro conversazione si svolse su quei soggetti che favoriscono ottimamente l'intimità fra giovinette, amore, vestiti, balli e celie. Ma Isabel, avendo quattro anni più di Catherine e quattro anni in più di esperienza, godeva di un notevole privilegio sulla sua interlocutrice. Sapeva paragonare i balli di Bath con quelli di Tunbridge e le mode di Bath con quelle di Londra. Sapeva correggere le opinioni della sua nuova amica sulla moda, scoprire un amoretto soltanto dal modo con cui i due si sorridevano, afferrare uno scherzo al volo. Queste doti di Miss Thorpe riuscivano completamente nuove a Catherine e le ispiravano un sentimento di rispettosa ammirazione che la rendeva timida verso l'amica. Ma la facile allegria di Miss Thorpe e la sua cordialità nel manifestare il piacere dell'incontro allontanavano qualsiasi ombra di timore, suscitando nella fanciulla una tenera affezione. Una decina di giri nella pump room non potevano soddisfare le affettuose esigenze della loro novella amicizia. Questa imponeva che la signorina Thorpe, prima di accomiatarsi, accompagnasse Catherine alla porta di casa di Mrs. Allen, dove si separarono con una buona stretta di mano che prolungarono affettuosamente quando appresero con gioia che si sarebbero viste la sera a teatro e avrebbero pregato l'indomani nella medesima chiesa. Catherine salì in fretta alle scale e dalla finestra seguì Miss Thorpe che si allontanava per la strada, ammirandone la spigliatezza dell'andatura, l'eleganza dei movimenti e della persona, ringraziando di tutto cuore il destino che le aveva procurato una sì cara amica. Mrs. Thorpe era una vedova non molto ricca, brava e buona donna e madre assai indulgente. La figlia maggiore era molto bella e le altre, che pretendevano di esserlo altrettanto, ne imitavano con pieno successo l'atteggiamento e il modo di vestire. Questo breve resoconto sulla famiglia ha lo scopo di eliminare una lunga e dettagliata relazione da parte di Miss Thorpe sulle proprie avventure e sofferenze passate, che avrebbero potuto fornire materia per altri tre o quattro capitoli, con il racconto delle indegnità di aristocratici e di magistrati e con la minuziosa rievocazione di chiacchiere fatte venti e più anni prima. 5. A teatro, la sera, l'interesse per lo spettacolo e il da fare non trascurabile, che le provocava a rispondere ai cenni del capo e ai sorrisi di Miss Thorpe, a teatro, la sera, l'interesse per lo spettacolo e ai cenni del capo e ai cenni del capo e ai cenni del capo.